E allora l'avevamo preannunciato, diamo il benvenuto al sindaco di Torricella Sicura, Daniele Palumbi. Sindaco, benvenuto all'interno del nostro spazio. Sì, benvenuto a voi, saluto tutti i tre spettatori. Sindaco, lei si trova, ha iniziato da più di 100 giorni il suo quarto mandato, un lavoro importante quello che sta portando avanti in tutti questi anni all'interno del suo territorio. A che punto siamo? Perché lei ha iniziato, ha terminato e sta creando nuovi progetti, nuove iniziative. Sì, diciamo, il quarto mandato è un po' la novità perché questo è stato possibile grazie alla nuova legge che nei comuni sotto 3.000 abitanti hanno tolto il vincolo. Perché prima si poteva fare tre mandati, io già avevo fatti tre, poi nel frattempo c'è stata una modifica della norma che sui comuni sotto 3.000 abitanti hanno tolto il limite. Quindi uno in teoria potrebbe fare il sindaco anche a vita, se ovviamente viene eletto dai cittadini. E il nostro quarto mandato è il mandato del raccolto. Perché dopo 15 anni di amministrazione puntuale, precisa, molto attenta al bilancio, non abbiamo fatto mutui in 15 anni, quindi perché ne eravamo già tanti, è stato un mandato abbastanza, diciamo, preciso e attento sulle casse, sul bilancio. E adesso si raccolgono i frutti, si raccolgono i frutti perché si è riusciti in questi anni a ridurre l'indebitamento. Abbiamo ridotto i mutui, i torricellesi, di 60% circa, perché avendo pagato le rate semestrali e non avendo accesi altri mutui, è ovvio che si abbassa l'indebitamento. Quindi abbiamo ridotto l'indebitamento del 60% e abbiamo ottenuto finanziamenti importanti che si aggirano intorno ai 30 milioni di euro. Però questa è anche la bravura di un'amministrazione comunale, cercare di reperire fondi anche tramite progetti europei e soprattutto in questi ultimi anni, anche grazie al PNRR. Noi abbiamo, io credo che l'obiettivo di ogni amministratore debba essere quello di far migliorare la propria amministrazione comunale. Torricella ha avuto dei buoni risultati, grazie a diversi fondi, fondi del sismo e poi i fondi del programma straordinario di ricostruzione oltre al PNRR. Cioè noi abbiamo avuto 18 milioni in acconto dal commissario Castelli e dall'Aggiunta regionale di Marsiglio. Sono 18 milioni che già abbiamo avuto anche in acconto che stiamo facendo dei progetti per risarcire i danni del sismo su opere pubbliche. Perché poi comunque voi avete avuto, purtroppo avete vissuto in prima linea anche la drammaticità del sisma del 2016. Sì, ma infatti il lavoro straordinario che si è stato raggiunto è stato questo, che nonostante le grandi calamità naturali, i due sisma, che è il sisma del 2009 e il sisma del 2016, poi c'è stata la nevigata del 2017, insomma tante emergenze, nonostante... Anche il Covid. Anche la fine il Covid, ovviamente. nonostante queste grandi emergenze, siamo riusciti comunque a non fermarci e ad ottenere i finanziamenti importanti. Questo per noi è soddisfazione e siamo orgogliosi di aver raggiunto questi obiettivi importanti. In questo momento, ad esempio, abbiamo otto cantieri aperti. la macchina tecnica e amministrativa sta lavorando perché i cantieri vanno avanti, i progetti vengono approvati, appaltati e quindi stiamo spalmando i 30 milioni. Spero e me lo auguro che, insomma, in questo montato i 30 milioni vengono messi tutti sul campo. Abbiamo visto comunque un cambiamento forte all'interno del suo comune negli ultimi anni. Si percepisce di più questo cambiamento? Questo mi fa piacere che viene percepito un cambiamento. Abbiamo raggiunto degli obiettivi. Il primo comune del centro Italia ricostruito è stato il nostro, 4 milioni di euro. Quindi è stato questo un passaggio importante. Ricordo anche il primo villaggio SAE realizzato più grande, il primo, fu a Torricella. Mi ricordo che veniva innamorato. Che nel Natale, era l'allora presidente Luciano D'Alfonso, era il Natale 2017, facemmo un regalo bellissimo con 18 famiglie che a volte quando rivedo quei filmati, quelle foto, ancora mi emoziono. Però Sindaco, io mi piace anche affrontare la tematica della squadra amministrativa. Ci sono ovviamente delle riconferme rispetto agli anni passati, ci sono anche delle new entry, però mediamente vedo tutte persone giovani. Beh, sì, io sono quello più vecchio a questo punto. Però è giusto che il Sindaco, comunque come se fosse il capitano. No, vabbè, sì, la nostra è una squadra che si compone di amministratori che, miei amici, tra l'altro, che stiamo amministrando, come dicevo, da 15 anni, abbiamo intrapreso il ventegno, diciamo. Alcuni, poi ovviamente c'è un rinnovamento. Questa volta abbiamo avuto inaspettatamente, improvvisamente, la fuoriuscita del Vice Sindaco che si è candidato in contrapposizione alla nostra lista. E questa è una cosa che un po' mi è dispiaciuta, che effettivamente avere una squadra dopo 15 anni, dove si è amministrati bene, si è amministrati senza nessun mai un problema politico, a un certo punto, nel momento in cui bisognava scegliere il Sindaco, la Vice Sindaca, insomma, ha deciso di abbandonare la squadra dove è nata per candidarsi personalmente. Mi dispiace per lei, che gli è andata male, però voglio dire in politica che questo può accadere, quindi avrei preferito che fosse rimasta nella squadra. Però, Sindaco, comunque, la cosa importante è il lavoro che state portando avanti. Ci sono tantissimi progetti, come lei mi ha portato un po' un resoconto di quello che si è state portando avanti e state dando anche grande attenzione alle frazioni. Sì, sì, sì. Che molte volte, purtroppo, sono quelle più dimenticate. Che poi Torricella è un comune molto esteso. È anche difficile di amministrare perché abbiamo tante frazioni, ne sono circa 26, 27 frazioni, alcune delle quali ci sono anche pochissime persone. Addirittura Mariano c'è una sola signora anziana e adesso è arrivata una famiglia da Milano, credo, sì, da Milano, quindi una frazione molto spopolata, diciamo, non ci sono persone, però su un territorio molto esteso. Quindi, diciamo, gestire questo territorio così, di 55 chilometri quadrati, non è affatto semplice. Stiamo cercando, anche con questi finanziamenti, ma soprattutto anche con le risorse nostre, di fare piccoli interventi nelle frazioni, perché è giusto che ogni cittadino non si senti abbandonato dallo Stato, insomma. Però lei sta anche lavorando per cercare di far tornare a vivere il suo territorio anche delle nuove coppie, delle nuove famiglie? Sì, qui c'è una legge regionale che nei comuni sotto 3 mila abitanti danno un incentivo per chi prende la residenza, i nuovi residenti. Ma io non credo che sia il problema quello dei residenti, perché più o meno su Torricella non vedo un grosso spopolamento. Il problema è un altro, che non si fanno più i figli a denatalità. Questo purtroppo è un problema nazionale. Questo è un problema che anche a Roma si sta spopolando. È chiaro che io vedo anche dai dati del nostro comune che rispetto a 15 anni fa le nascite erano più frequenti. Oggi purtroppo diventiamo anziani, ci sono i recessi e non ci sono le nascite. Ovviamente questo rapporto porta a un caro demografico. Il problema più grosso è quello della denatalità. Cioè, non si fanno più i figli. Bisognerebbe che il governo insista su dare incentivi importanti finché, insomma, una famiglia possa fare figli. Perché se non si fanno figli... Il problema oggi è delle giovani coppie e quello di, prima di tutto, di avere un lavoro stabile. La stabilità non è qualcosa di semplice. Quindi bisogna avere dei grossi incentivi per le famiglie che hanno figli. Così uno magari... Una volta si facevano sette, otto figli. Oggi massimo due, ma tre proprio sono casi straordinari. Casi straordinari. Cambiamo argomento, Sindaco. Il turismo, la cultura del suo territorio rappresenta molto. Perché comunque voi avete anche creato da... se non ricordo male proprio uno slogan Torricella Sicura alla porta della Laga. Sì, Torricella Sicura è un comune che è una posizione mi avviso strategica perché è il comune più vicino al capoluogo a terra. Siamo a 5 km. E però ha anche due bellissime montagne. Quella che porta verso il Ceppo e quella che va verso Cambri, verso Ioanella. Abbiamo una piccola zona all'interno del parco. Noi stiamo cercando di attrarre i turisti. Ovviamente è chiaro che le aree interne sono più difficili rispetto alla costa. Alla costa i turisti vanno da soli. Però il turismo è cambiato negli ultimi anni. Il turismo... Che gira, si muove, non è più uno che arriva e vuole rimanere vivere solo a quel posto. Io credo che queste nostre frazioni, i piccoli territori che sono molto belli, credo che tra alcuni anni ci possa essere veramente un ritorno perché sono piacevoli. Noi adesso abbiamo da un po' di anni grazie alla prologa di Torricella abbiamo rimesso su un rifugio nel paese nella Valle Piola che era una località abbandonata. Oggi abbiamo questo rifugio del pastore che comunque devo dire riesce a accogliere dei turisti. Poi anche grazie alle risorse che abbiamo messo in campo stiamo facendo un intervento importante sull'ostello sull'ostello di Monte Fanum dove è una zona bellissima che si trova vicino Santo Stefano dove si vede anche il mare. Quindi voglio dire cerchiamo in qualche modo di sviluppare anche la montagna perché è giusto che sia così. parliamo anche di lavoro perché molte volte poi per far rimanere le persone a vivere in un contesto in un comune bisogna anche mantenere le attività produttive che fanno parte di un territorio. In un contesto così particolare perché comunque è un piccolo comune come si riesce a mantenere le aziende? Allora innanzitutto cercando di dare dei servizi e poi è necessario dargli la possibilità di creare dei nuovi opifici industriali. Noi abbiamo una zona piccolina però carina a piano grande una zona artigianale nuova che adesso già è satura però abbiamo già adottato un nuovo piano regolatore e stiamo cercando di abbiamo già trovato già identificato un'area vasta per creare una nuova zona artigianale. ripeto poi ovviamente grazie a un bilancio sano che siamo portando avanti da più anni adesso è il momento che possiamo ridurre le tasse vogliamo ridurre il costo del lino sulla Tari non si può fare nulla perché sulla Tari c'è una norma che dice quello che paghi devi incassare dai cittadini non ci sono deloghe però su un lino sugli opifici ma soprattutto anche sulle altre sui terreni edificabili sulle case di lusso vorremmo anche abbassare l'imo questo sarà possibile da adesso in poi perché il nostro bilancio ce lo può permettere abbiamo già ridotto le aree edificabili molti cittadini ci chiedevano di retrocedere cioè alcuni cittadini avevano dei terreni edificabili in zone anche scoscese strette ci hanno chiesto di riportarle ad agricoli questo l'abbiamo fatto ed è stato possibile grazie a un bilancio sano Sindaco abbiamo parlato di turismo abbiamo parlato di lavoro ma anche un altro tassello fondamentale per un territorio che è quello della scuola guardi sulla scuola noi abbiamo delle scuole sicure abbiamo fatto diversi interventi sulla scuola primaria e secondaria abbiamo fatto degli interventi sul nido e adesso stiamo realizzando la nuova scuola dell'infanzia è un finanziamento di 960 mila euro i lavori sono a buon punto mi auguro che nel prossimo settembre avremo una nuova scuola dell'infanzia per i nostri bambini quindi comunque settembre verremo a fare il taglio del nastro credo di sì ma ne faremo tanti di tagli del nastro ok il prossimo quale sarà? beh guardi abbiamo 8 cantieri se lo scelga lei il primo che possiamo fare è quella della rigenerazione urbana l'area degradata l'ex central link abbiamo realizzato un immobile nuovo restaurato anche un finanziamento dalla presidenza del consiglio dei ministri a breve faremo un'inaugurazione quindi saremmo sicuramente invitati come no grazie mille al sindaco Daniele Palumbi il sindaco di Torricella Sicura purtroppo è terminato già il tempo a nostra disposizione io la ringrazio per essere intervenuto grazie a voi tutti un po' raccontato il lavoro che state portate avanti all'interno del suo comune certo e adesso amici di Di Pomeriggio non cambiate canale perché ci guardiamo insieme l'approfondimento curato dal nostro Nico Centurame di un evento che si è svolto a Montone Ergomano del Lannul grazie a tutti